Ad è stato una certa curiosità ieri la presenza allo stadio Vismara in occasione del match di calcio femminile tra Milano e Fiorentina, vinto dalle ragazze di Maurizio Gans sulla Fiorentina priva di Valentina Giacinti alle prese con un problema fisico, dicevo ad è stato una certa curiosità la presenza di Gordon Singer, ma lo spieghiamo molto rapidamente. L'UEFA tiene molto in considerazione il calcio femminile, un club che è anche una sezione femminile importante e competitiva, è un club che per l'UEFA ha ancora una maggiore valenza. Ecco perché non è venuto solo da tifoso e simpatizzante, ma proprio per anche una questione che il club è un settore che il club tiene molto molto in considerazione. Poi se abbia altri impegni io questo non lo so, però ieri Gordon Singer era allo stadio Vismara. Veniamo alle notizie di oggi con Florenzi che ha un affaticamento al ginocchio, non potrà partecipare, era uno dei candidati a essere ancora titolare nel match contro la Turchia di domani sera. Non ci sarà Florenzi, speriamo che si tratti di un qualcosa di lieve, solo un affaticamento e qualche giorno di riposo possa permettere a Florenzi di essere disponibile, visto che poi il match è lunedì, essere disponibile per la partita appunto tra Milan e Bologna. Domani riprendono gli allenamenti, ma oggi vorrei trattare un altro tema. Mi hanno chiesto oggi a Tele e Lombardia quale potrebbe essere un giocatore che possa fare la differenza in questo finale di stagione. Oltre al solito Zlatan Ibrahimovic, ma che noi dobbiamo capire le condizioni se finalmente possa essere dal primo minuto in campo, ebbene io ho nella mia testa un nome, io ho nella mia testa un nome di un giocatore che potrebbe veramente fare la differenza in questo finale di stagione. Il nome è uno solo, Ante Sacrofuoco Rebici. Chiaro che poi servirà l'apporto di un centrocampo forte, di un centrocampo in forma, delle imprevedibilità di Diaz, oppure della forza di Chessi, lì come numero 10, dello spirito di sacrificio che certamente contraddistingue la fascia destra, e parliamo di Messias e Selemekers. Chiaramente sarà importante la qualità, la classe di Leao e il fiuto del gol di Giroud, ma se io devo pensare oggi a un giocatore che possa essermi decisivo nelle partite finali, in queste partite del dentro e fuori, io metto il nome di un giocatore che nei momenti decisivi anche della scorsa stagione è emerso in tutta la sua classe, in tutta la sua determinazione, in tutto il suo fiuto del gol in area e anche in tutta la sua classe. E parlo appunto di Sacro Fuoco Ante Rebic. Perché sono positivo? Le partite precedenti mi avevano fatto capire che la gamba non era ancora calda, che la gamba non era ancora tonda, ma la partita di Cagliari mi ha mostrato un Ante Rebic in eccellenti condizioni, psicofisiche. L'ho visto determinato, l'ho visto attento, l'ho visto pericoloso, l'ho visto dialogare, ha dato un pallone a Calabria superbo, superbo, come ha dato anche nel giorno d'andata palloni superbi nel match contro il Liverpool o in altre occasioni. Ante Rebic è un campione, purtroppo il Milan in due anni l'avrà avuto 20 partite, se dico tanto, dal primo minuto, ma come attaccante puro, come bounty killer dell'area, come sentenza, ebbene sono pochi i giocatori come il grande Ante. Quindi io addirittura penso che Rebic sarà titolare contro il Bologna. Leao è stato impegnato nelle partite e domani sarà impegnato nella partita, non so se dal primo minuto, contro la Macedonia, per decidere chi andrà o no ai mondiali, ahimè, e noi non c'entriamo nulla. Pensate come sarebbe stata l'attesa oggi e invece l'attesa è di una partita Italia-Turchia e Turchia-Italia che sinceramente è solo a valore per il ranking e per i diritti televisivi, ma senza altre valenze. Ebbene, visto che Giroud è stato in Francia, Leao è stato in Portogallo, Rebic ha lavorato e bene tutta settimana a Milanello, io lo considero come uno dei candidati autorevoli nella formazione che affronterà il Bologna. Gli allenamenti riprenderanno domani, poi si attenderà tra mercoledì e giovedì il ritorno di tutti i nazionali e c'è grande curiosità anche per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Domani sarà anche lui impegnato, come Menjan, come titolare nella Francia contro il Sudafrica. C'è sicuramente Zlatan Ibrahimovic nella partita delle partite contro la Polonia. Chissà se riuscirà a rubare qualche minuto per capire se Zlatan Ibrahimovic potrà essere in campo magari dal primo minuto nel match decisivo con il Bologna. Contro un Bologna che avrà mille motivi per regalare al suo allenatore Mijalovic. Non so se è un grande risultato, ma certamente una grande, importante prestazione. Interessante l'indiscrezione questa mattina di Tutto Sport per quello che riguarda il futuro di Diaz. Si parla di un Milan che possa chiedere uno sconto al Real Madrid per il futuro del giocatore. Tenerlo o non tenerlo? Allora, incominciamo a dire che 22-24 milioni per tenere Diaz mi sembrano francamente eccessivi. È un giocatore di qualità, è un giocatore di affidamento, ma 22-24 milioni secondo me sono tanti per questo giocatore importante e utile, ma che si distingue soprattutto sempre giocatore generoso, attaccato alla maglia, grande cuore rosso-nero. Ma col numero 10 abbiamo già visto dal primo minuto non sempre essere brillantissimo, anche se nel giornale d'andata, soprattutto dall'inizio, prima dei suoi problemi fisici era stato determinante. Quindi io credo che Diaz sia la figura ideale per entrare nel corso della partita in generale. Quindi permettere un giocatore non titolare futuro e spendere 22 milioni di euro mi sembra sinceramente forse esagerato. Lo valuterà il Milan, dovesse il Milan riuscire a ottenere uno sconto importante, chiaro che allora la situazione potrebbe radicalmente cambiare perché giocatori ormai ben inseriti come Diaz, in grado di ribaltare completamente la partita, in grado di dribblare e sparigliare le carte e le difese avversarie, non è che ce ne siano molti in Europa. Poi soprattutto è un giocatore già testato dal Milan e quindi sappiamo tutto, pregi e difetti per questo giocatore ancora molto giovane e che quindi potrà ancora maturare. Quindi è una trattativa, è una situazione da monitorare, da seguire. L'articolo di Tutto Sport parlava anche di prestiti, ebbene il ritorno sicuramente di Pobega, vedremo se ci sarà il ritorno di Aughe e vedremo soprattutto il mercato del Milan, magari noi non lo sottolineiamo, ma dipenderà anche se arriveranno delle cifre e delle offerte, chiamiamole per farci capire, indecenti per Rafael Leao. Lì dovrà valutare il Milan. Il Milan, non ci sono dubbi secondo me, per qualsiasi giocatore dovesse avere un'offerta dai 50, 60, 70 milioni di euro, credo che non dica mai di no e questo comunque non mi fascierei la testa, perché i dirigenti del Milan sanno sempre pescare dei giocatori, sono bravi a lavorare in anticipo. Magari questo è stato uno, anzi senza magari, è stato uno dei segreti per andare a prendere giocatori, anche insospettabili. Per quello che riguarda dunque il mercato del Milan, Aughe è un altro giocatore che bisogna aspettare la salvezza aritmetica dell'Aintracht-Francoforte per capire se potrà o no ritornare nel Milan, ma tendenzialmente per il bene del ragazzo il Milan lo vorrà certamente poi cedere, mentre Pobega abbiamo già detto che rimarrà sicuramente. Per gli altri vedremo Lorenzo Colombo, può darsi che un altro anno potrebbe essere importante per lui in qualche altra squadra per affinare ulteriormente. E poi, e poi, indipendentemente da quello, c'è la grande attesa per capire se l'Azetic, quando l'Azetic potrà affacciarsi in prima squadra. So che appena il Milan l'ha acquistato, subito tanti club italiani l'hanno chiesto in prestito, cosa che il Milan non ha fatto ovviamente, perché lo vuole vedere a Milanello allenarsi, Pioli lo vuole studiare. Ma sicuramente, con i suoi 19 anni, sarà uno dei giocatori più richiesti. Però il Milan ha bisogno di quattro punte. Abbiamo Ibra, abbiamo Giroud, abbiamo XY, favorito Origi, ma il Milan ha bisogno di una quarta punta, però che dia una certa sicurezza che purtroppo Pellegri, che continua ad avere problemi fisici anche a Torino, non è riuscito a risolvere e non è riuscito a dare quella qualità, quella presenza, quella continuità, quella sicurezza al Milan, perché il Milan non andasse a cercare altri giocatori. Quindi, anche per quello che riguarda la punta, bisognerà capire l'Azetic, se il Milan già ha intenzione di darlo in prestito, oppure vuole vedere magari qualche amichevole prima di cederlo eventualmente ad agosto. Tutto è prematuro, ma il discorso Diaz è un discorso da seguire e mi interessano anche i vostri commenti se investireste questa cifra su Diaz, mentre per quello che riguarda il campo il mio titolo è abbastanza chiaro. Rebic titolare? Attenzione, per me Rebic sarà titolare contro il Bologna. È una mia sensazione. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Bellegati e attivate la campanella.